Quando si registra la scelta di Mikotera? Anticipazione puntata Uomini e donne. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uomini e donne classico e over. Le registrazioni in programma lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono rinviate a data da destinarsi. Il 27 febbraio è giorno in cui si svolgeranno i funerali di Costanzo presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Motivo per il quale non ci sarà spazio per alcuna nuova registrazione del talk show pomeridiano. Anche la puntata che avrebbe dovuto essere trasmessa lunedì nel daytime di Canale 5 sarà annullata come accaduto per quella di venerdì scorso. La trasmissione potrebbe riprendere il 28 febbraio, giorno successivo alla data in cui verrà celebrato il funerale del giornalista e condottore. Ma questa è una notizia tutta da confermare. Dunque la scelta di Federico Nicotera, che avrebbe dovuto essere registrata proprio lunedì, è stata ancora rinviata. Stavolta per cause di forza maggiore, indipendente dalla volontà del tronista che, come da lui annunciato, era pronto a prendere la sua decisione. Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi. In onda su Canale 5 De Calitro 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione adulta del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all'interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi. Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.